ben trovati a questa nuova puntata di talk sicilia la trasmissione che va in onda su blog sicilia e videoregione allora oggi parleremo e continueremo questo nostro percorso per cercare di non dimenticare quanto si sta facendo in questi mesi a palermo sul fronte del contrasto alla droga e soprattutto del crack ricordate tutti quella importante manifestazione che si è svolta tra le strade di ballarò alla quale hanno partecipato tantissime persone anche la chiesa si è schierata contro contro questa emergenza la città le forze dell'ordine e tantissime associazioni ora queste associazioni stanno proseguendo quel percorso anche se non se ne parla tantissimo al momento a palermo perché di emergenze qua ne abbiamo sempre tante però noi vogliamo appunto sottolineare quello che si sta facendo proprio in questi giorni anche perché proprio nelle prossime ore ci saranno momenti importanti davvero per proseguire questo cammino oggi parleremo di questo di questa emergenza con chi affronta in maniera abbastanza coraggiosa ogni giorno questa questa emergenza proprio nei vicoli di ballarò abbiamo nino rocca del centro impastato io ringrazio davvero di essere qui con noi e lorenzo capretta dell'associazione our voice appunto sono due front man diciamo di questa di questa di queste associazioni che si stanno adoperando tantissimo per cercare di strappare più giovani possibili alle grinfie di questa di questa terribile droga e allora io però questi sono giorni particolari per palermo perché proprio oggi è morto viaggio conte so che nino rocca è molto legato lo conosciamo tutti appunto quindi affiderei a lui proprio in questo momento un ricordo un pensiero ecco volevo cominciare con questo pensiero per il piccolo e grande viaggio che a cui tutti noi abbiamo voluto tanto bene e che ci ha lasciato in questa palermo che ha mille emergenze e mille bisogni e credo che la maniera migliore per ricordarlo e continuare a fare volontariato così come lui lo ha fatto per buona parte della sua vita sino alla morte ecco grazie viaggio e un abbraccio da parte di tutti noi e l'ha fatto proprio nel centro storico no perché proprio lui ha voluto assolutamente la la struttura più grande quella di via dei decollati proprio lì diciamo in nel centro storico accanto alla stazione lui era per lui era una cosa un obiettivo fondamentale avere un centro proprio accanto alla stazione così anche voi volete un centro particolare per questa lotta al crack proprio lì dove si spaccia dove si vende dove i giovani purtroppo trascorrono tante serate anche tra i vicoli e in condizioni molto molto serie un po come i barboni che diciamo aiutato biaggio conte e allora e si trova sta succedendo per ora a palermo come biaggio conte noi ci rivolgiamo verso gli ultimi e gli emarginati verso coloro che rischiano di di perdersi in questo tunnel della droga e che cosa stiamo facendo e che cosa abbiamo pensato assieme ad altri soggetti che sono impegnati su questo campo ecco innanzitutto quello di creare una rete tra coloro che si impegnano e sono impegnati giornalmente quotidianamente nella lotta alla droga che uno delle cose più importanti proprio per combattere la mafia perché quella che produce più denaro e più sostegno alla alla mafia oggi e tra questa rete è costituita da diverse associazioni tra cui c'è la casa dei giovani che ha costituito che ha messo in campo per vent'anni una casa di accoglienza in via libertà bassa soglia in via libertà l'istituto don calabria eh che più recentemente ha anche anch'esso ha messo in campo una una un centro di accoglienza a bassa soglia eh per tre anni e la lega contro la droga eh l'associazione giulio è che creata adesso dal papà eh di giulio che noi abbiamo avuto ospite diverse volte in questo praticamente scomparso e e mi ha fatto molto piacere eh che ci sia anche lui perché eh abbiamo bisogno dei genitori e dei papà e delle mamme che combattono questa tragedia dei figli e quindi possiamo lanciare un appello no? E quindi lanciare un appello alle famiglie che vivono questa... Di eh venirci incontro e di unirsi a questa rete eh di contrasto alla droga perché da soli non si va da nessuna parte e c'è come dicevo appunto eh la lega contro la droga e ci sono tante altre associazioni c'è il centro impastato c'è eh 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 Lorenzo eh con il gruppo a Weikening e il suo gruppo Our Voice parlerà Our Voice e insomma ci sono tanti soggetti eh che si stanno preparando e ci stiamo preparando C'è un momento importante. Lunedì abbiamo un incontro all'assessorato ed è un incontro per costituire questo tavolo tecnico. Qual è l'obiettivo di questo tavolo tecnico? L'obiettivo di questo tavolo tecnico è quello di eh eh chiedere con grande forza e con grande convinzione intanto al sindaco di Palermo che è il responsabile della sanità pubblica che eh faccia eh pressione eh presso eh la sanità eh regionale perché scendano in campo con le proprie risorse eh risorse economiche e risorse di strutture per creare i servizi eh della riduzione del danno i servizi che sono costituiti dal camper, dagli operatori di strada e dal centro di accoglienza bassa soglia di prossimità per togliere questi ragazzi dalla strada e cominciare un percorso, quel percorso che come dicevo prima era stato già avviato dalla casa dei giovani eh per vent'anni e che poi fu interrotto per la mancanza di fondi era stato più recentemente avviato dall'istituto Don Calabria e poi fu interrotto per mancanza di fondi questo non si deve assolutamente verificare e noi vogliamo che questi servizi siano servizi permanenti con l'aiuto del terzo settore del volontariato. Questi giorni il giornale, il giornale nazionale eh il domani ha pubblicato un'inchiesta, un'inchiesta su proprio sul crack che si spaccia a Ballarò e dicevamo appunto che è davvero un'emergenza che non è nuova perché Palermo la sta scoprendo adesso ma è un'emergenza che va avanti da diverso tempo come si arriva al crack? Come si incontra nella strada di una persona che dico Giulio per esempio non è un ragazzo con tanta voglia, come ce ne sono tantissimi no? Come si arriva a consumare questa droga? Allora ci tengo a precisare il fatto che non sono solo coloro che vivono in strada a far uso di droghe ma ci sono appunto ragazzi, ragazze, studenti, studentesse, lavoratori, lavoratrici, persone normalissime che vivono nella società a farne uso. Tanto che appunto quartieri come Ballarò vengono frequentati da non solo da chi è residente nel quartiere ma anche da persone provenienti dall'intera città e dall'intera provincia e addirittura regione. Trovare il crack è molto semplice, basta percorrere le vie del centro storico, dell'albergheria ma anche di quartieri come lo Sperone, come lo Zen quindi è alla portata di tutti e di tutte. Anche perché i costi sono... Esatto, basta pensare che una dose costa 5 euro fino ai 20, 30 e si trovano appunto di qualsiasi taglio, di qualsiasi prezzo questo. Quindi la cosa importante, un'altra cosa che porta ad avvicinarsi al mondo delle sostanze del crack ma come l'eroina, come anche tantissime altre droghe che ci sono e che non si parla è quello della mancanza di alternative, mancanza di servizi, mancanza di opportunità che possano permettere alle persone di gestire la propria vita in maniera funzionale. Anche perché l'utilizzo delle droghe nasce da una sofferenza, potrebbe nascere una sofferenza e uno dei motivi principali è proprio un malessere che nasce nel momento in cui i giovani, le persone potrebbero non trovare la propria strada, ok? Quindi immaggersi in una società che non crea un'opportunità e soprattutto anche una prospettiva di un futuro eroso e felice, questo. Però è pure vero che alcune volte si incontra la droga anche in modo abbastanza banale, dico per questo io dicevo anche, dico nel senso che sì, la frustrazione, le mancanze, tutto quello che... però alcune volte si esce con alcuni amici, si passa una serata in pizzeria, poi si continua la serata, magari questi amici prendono qualche cosa e quindi si usa, diciamo, e da lì inizia un percorso da cui non esci, esci con molta molta difficoltà. Allora, io avendo un vissuto in cui mi sono immerso nell'utilizzo delle droghe, il crack, eroina, canne, alcol, droghe chimiche, anfetamine, tutta una serie di droghe, posso dire che per quanto riguarda la mia esperienza che non avviene in maniera così banale e casuale, tutto nasce da una circostanza, da delle condizioni, da una serie di dinamiche in cui la persona è immersa e che porta un giovane, ok, ad avvicinarsi a questo mondo. Anche perché appunto la domanda è, come mai un ragazzo che esce il sabato sera, esce il venerdì sera, la domenica, esce in strada, ok, anche dopo la scuola, come alternativa trova la droga e non trova invece uno spazio verde, un campetto da calcio, un campetto da basket, non trova associazioni, strutture alternative, l'arte, la cultura, per vivere appunto la quotidianità e vivere la vita. Questa è la domanda, il perché ci sono queste condizioni e il perché… Tu parlando con questi giovani, penso che gli incontri di parecchi, loro te lo spiegano come che si sono avvicinati alla droga. Certo, uno dei motivi è il fatto, come dicevo prima… Che non vedono futuro. No, non è che non vedono futuro, si sono avvicinati alla droga in momenti particolari della propria vita in cui vivevano delle situazioni di disagio, di malessere che li ha portati a utilizzare le sostanze, la droga. Quindi sempre la fuga, diciamo. Una fuga da una realtà che è abbastanza difficile da vivere. E tante persone, tanti ragazzi, ragazze che ho incontrato e incontro e che appunto abbiamo, cioè con cui ci confrontiamo, ci frequentiamo, loro stessi dicono se io avessi un'alternativa, avessi luoghi, se avessi conosciuto più persone come me, come potrebbero essere Nino, come tanti altri ragazzi, come il gruppo di cui parlavo prima, Hawa Kenning, non sarebbero arrivati a cronicizzare l'utilizzo delle sostanze. Anzi, avrebbero trovato, ok, avrebbero intrapreso un percorso che di consapevolezza in quanto avrebbero adottato delle strategie più funzionali per vivere. E quindi come si esce fuori da questo mondo? Secondo, come diceva prima Nino, e come saranno le intenzioni con cui parteciperemo al tavolo tecnico di lunedì 16, pretendendo, chiedendo alle istituzioni, in questo caso all'ASP, alla Faraone, di assumersi la responsabilità di questo fenomeno, di queste dinamiche sociali, attivando immediatamente servizi a breve, medio e lungo termine per la gestione di questo fenomeno. Quindi loro esseri portavoci di un cambiamento rispetto alle dinamiche legate alla tossicodipendenza e alle dipendenze patologiche, questo è un problema sanitario, è un problema, ripeto, sanitario e si devono assumere la responsabilità dell'attivazione di questi servizi, senza delegare al terzo settore, al privato e quindi ecco, questo potrebbe essere una soluzione, come potrebbe essere una soluzione quella da parte del comune, del sindaco in questo caso, del sindaco, di sollecitare in quanto, come diceva Nino, responsabile della sanità pubblica, la sanità regionale per l'attivazione di questi servizi. Avete trovato interlocutori istituzionali? So che il prefetto si è sensibilizzato, anche noi l'abbiamo sentito, ma c'è questo circolo virtuoso, questo tavolo tecnico virtuoso? Per ora sì, sembra di sì. Non per il prefetto, non per il prefetto. Abbiamo parole, tutti, quando abbiamo fatto l'organizzazione abbiamo raccolto tutti i testimonianzi, poi sappiamo bene però abbiamo i capelli un po' bianchi, operiamo in questa città da tanto tempo, però poi dalle parole ai fatti... Devo dire che noi ci siamo incontrati con il sindaco, con il vice sindaco, con la vice sindaca e con l'assessore Pennino. Con l'assessore Pennino, prima della fine dell'estate, avevamo preso l'impegno, lei aveva preso l'impegno che avrebbe fatto questo incontro per creare un tavolo tecnico e lunedì ci sarà questo tavolo tecnico. Quindi sin ad ora queste promesse si stanno realizzando, bisogna vedere come si procederà in questo percorso perché c'è sempre una burocrazia molto farraginosa che rischia poi di far saltare tutto in aria. Devo dire che ci siamo pure molto impegnati nella scuola come prevenzione perché il problema originario è il disagio giovanile. E noi partiamo proprio dal disagio giovanile... Tu gli disagio giovanile te ne occupi da qualche anno, giusto? E poi ogni volta ne parliamo, perché noi poi facciamo sempre le cose a spot e a momenti, è stato meri per sempre, abbiamo affrontato, abbiamo scoperto la drammaticità del carcere minorile, quindi sono nate le comunità all'oggio, sono nate tutta una serie di esperienze per cercare di alleviare. Adesso stiamo scoprendo questa emergenza come se ci sia caduta al cielo, invece non è così. E quindi ne possiamo parlare dopo lunedì per vedere se effettivamente diciamo... Ecco, noi facciamo un appello e qui ringraziamo Blocosicilia e tutti i giornalisti che hanno riacceso i riflettori su questo problema perché non li spengano questi riflettori che ci accompagnano nel percorso che noi stiamo cercando di fare, perché i politici devono sentirsi obbligati a fare qualcosa. Annuncio tra l'altro che noi faremo pure un incontro con la Commissione Antimafia regionale siciliana proprio per portare questo problema anche sul versante della lotta alla mafia, perché la lotta alla mafia si fa anche riducendo la domanda della droga e per ridurre la domanda della droga occorrono che le istituzioni scendano in campo e occorre fare un'azione molto forte nelle scuole con l'aiuto anche di persone come Lorenzo e quelli e i ragazzi di Hawaii Kaling che hanno superato questa crisi dopo tanta fatica e dopo alcune volte alcuni anni... Testimoni viventi che si può fare... Sono testimoni viventi che ci si può riuscire. E quindi ci si può riuscire e tu quando parli alle scolaresche, parli a questi giovani, cosa dici per catturare innanzitutto la loro attenzione? Perché voi è quella la cosa che sono presi da 50.000 cose quindi fare capire che questo è veramente un loro problema. Allora, principalmente essendo come abbiamo detto prima un problema che potrebbe nascere e uno dei motivi principali è quello del disagio, è riuscire a intercettare insieme con loro, insieme con i ragazzi e le ragazze, quali sono i loro sogni, ok? Ciò che impedisce ai loro sogni di potersi realizzare. E quindi qui si crea un confronto, si crea un dibattito, si crea anche una scoperta rispetto a un qualcosa come potrebbero essere delle passioni, dei talenti che nell'arco della loro vita, nell'arco della nostra vita perché io sono anche immerso in questo processo di scoperta, che è mancato qualcosa, che non ci sono sempre le condizioni per far sì che i giovani, ok? Possano entrare in contatto con delle loro esigenze, con i loro bisogni e trovare un modo per poterli realizzare, poterli concretizzare. E questo poi comporta una serie di dinamiche, il prendere coscienza che ci sono diverse modalità, ok? che disfunzionali, sicuro, che mettono i bastoni fra le ruote. Uno, quello della criminalità organizzata, quello di Cosa Nostra, che viene coinvolte diverse sfaccettature della società, a partire da quella parte delle istituzioni corrotte, deviate, da quella parte anche della sanità corrotta, deviata, che creano quelle condizioni per far sì che ci sia appunto il proliferare delle droghe, che nonostante si sappia chi produce, chi spaccia e chi la importa in Italia come la cocaina continua ad esserci questo fenomeno, come continuano ad esserci, a essere nella città di Palermo e in tutto il resto d'Italia. Prodotta questa droga, come diceva Pupà, prodotta anche dentro Ballarò, prodotta dentro Ballarò, assolutamente, ma proprio l'abbandono di quartieri, ok? Come potrebbe essere quello di Ballarò e dell'albergheria, in cui non ci sono pochissimi servizi, spazi verdi, spazi adibiti per i bambini, per le bambine, per poter crescere. Non ci sono spazi, non ci sono luoghi... Tutto cunicoli, tutti i bastoni, tutti i nicoletti. E se ci sono, sono abbandonati, come il campo di bocce sotto il murale di San Benedetto il Moro, che quello è uno spazio che da vent'anni, nonostante ci siano state ripetute azioni, non viene lasciato a fine a se stesso senza la presa in carico di responsabilità da parte del Comune, del Consiglio Comunale. E quindi questi sono problemi che i giovani, parlando con loro, se ne rendono conto. E io invito, ok, visto che stiamo anche facendo degli inviti, a unirci sempre di più tutte quelle realtà, tutte quelle persone, giovani, che sentono e percepiscono che c'è un qualcosa che non va, per lottare contro questo sistema criminale... Dove trovano i giovani? C'è una pagina Facebook, c'è un sito, c'è qualche cosa dove... Un numero di telefono, questo lo possiamo pubblicare anche su Blog Sicilia, così diciamo diamo tutti gli indirizzi per potervi trovare. Assolutamente, come Our Voice, ok, che è appunto il movimento giovanile antimafia intersezionale, ci potete trovare sui social, su Instagram, Facebook, sul web, abbiamo anche un canale YouTube, ma come il gruppo Awakening, ok, come anche tantissime altre realtà. Noi come movimento quello che ci impegniamo è creare un'alternativa e denunciarlo, questo sistema criminale, ok, che si muove, come ho detto prima, su più livelli e quindi proponiamo, ok, proprio una costruzione di un'alternativa insieme che possa nascere dai nostri passioni, dai nostri talenti, dalle nostre qualità per poterle convergere tutti in un unico obiettivo che ci può permettere, ok, veramente di attuare un cambiamento. Il nostro tempo è volato, purtroppo, sicuramente vi avremo ospiti per altre puntate, però come dice appunto il tempo è quello che è, come vedete è volato veramente, tanti sono gli argomenti, tante sono le questioni aperte, sicuramente avremo ospite ancora Nino Rocca e Lorenzo Capretta per affrontare appunto tutti questi altri temi. Io al momento appunto devo terminare qua, io vi ringrazio davvero della vostra disponibilità, della vostra partecipazione, vi auguro una serena giornata e alla prossima puntata. Grazie a tutti.